dal 21 al 7 di gennaio vietati di spostamenti fra regioni la scuola riprenderà il 7 gennaio cala il numero dei positivi ma non dei morti salento piange franco di fiore sportivo e salutista sconfitto dal covid ballo della lucania fa da assist al covid hospital di agropoli mentre i suoi reparti eccellenti rischiano di scomparire il maltempo continua a fare danni nel basso cilento piogge e granile paralizzano pure camerota oggi è la giornata internazionale per le disabilità a festeggiarle ci pensa sempre il parco archeologico di pestum e velia queste sono alcune delle notizie in onda nel telegiornale di oggi meno ricoveri anche in terapia intensiva ma in serata erano 20.709 i positivi in italia sempre alto il numero dei deceduti 684 dalla fine del mese di ottobre si sono registrati 20.000 casi in più di decessi passando da 37.000 a 57.045 e forse è questo il dato più inquietante nonostante il rafforzamento della medicina territoriale che comunque in molte regioni è stato un flop le misure di prevenzione e dunque della limitazione del rischio in italia si continua a morire per covid e i numeri sono inquietanti e non riguardano sono le fasce più deboli della società gli anziani o i portatori di patologie pregresse nel mentre si attende per questa sera il dpcm che darà le indicazioni generali per i prossimi giorni e per l'organizzazione delle festività natalizie in base alla colorazione delle regioni per le quali è facile prevedere un abbassamento del rischio a moderato tanto da conferire loro una colorazione gialla al massimo arancione si rinvia in ogni dove il ritorno a scuola pensabile su larga scala un ritorno in classe per tutti gli istituti di ogni ordine e grado dopo le vacanze di natale nel post epifania nella serata di ieri è stata sempre la lombardia a relazionare il più alto numero dei contagi oltre 3.000 con 36.000 tamponi deviene dietro il veneto 2782 nuovi casi terza è la campania che con oltre 19.000 testa intercettato 1842 casi da notare che a fronte di ulteriori 43 morti il numero dei ricoverati è stabile da diversi giorni mentre quello delle terapie intensive diminuisce progressivamente segno che un allentamento sul sistema sanitario c'è e questo di certo inciderà sulla conversione della regione da zona rossa ad altra colorazione che darà ai cittadini sicuramente maggiore possibilità di movimento e meno restrizioni 378 casi totali di covid a battipaglia a fronte di otto nuovi contagi in 75 hanno guadagnato la guarigione ad eboli seppure si vada via via contraendo il numero complessivo dei positivi che attualmente è di 394 contagiati i casi alla serata di ieri sono stati 16 in breve le due città guardia della porta del cilento insieme continuano a fare più di 700 casi di corravirus nel comune di capaccio pestum ulteriori otto casi hanno portato all'incremento del totale dei contagiati in 92 ad agropoli tre ulteriori positivi a castellabate non aver registrato nuovi casi è stato un buon motivo per inaugurare uno degli alberi che l'amministrazione capeggiata dal sindaco facente funzioni luisa maiuri sta allestendo in tutte le frazioni per rendere più caldo un natale che sarà comunque singolare a causa dell'emergenza covid sarà invece un santo natale più triste in tante comunità in cui accanto alle tante guarigioni si sono registrate delle morti come a salento il sindaco gabriele de marco si è stretto attorno alla famiglia di fiore per l'inimmaginabile morte per covid di franco conosciuto ovunque perché seppure fosse salentino esercitava da decenni il mestiere di parrucchiere a casa alberino ricoverato da giorni a causa delle complicazioni legate alla sua positività al covid franco di fiore conosciuto per la sua sportività per una vita sana sempre a contatto con la natura non è riuscito a superare la notte ed è ispirato a poco più che 60 anni dopo essersi occupato fino adesso dei suoi anziani genitori prima in ultimo della madre che gli è sopravvissuta decine i messaggi di cordoglio scritti sulla pagina del sindaco di salento incredoli tutti perché la morte di franco di fiore indica che questa malattia è subdola e non risparmi alcuno e cresce pure la percentuale di persone che hanno perso la vita tra i 31 e 60 anni che ora è pari al 19 per cento in provincia di salerno infatti secondo l'ultimo report dell'asl seppure il numero dei nuovi casi sia diminuito quasi del 50 per cento in una sola settimana sono morte 190 persone l'età media è stata inferiore ai 75 anni circa 18 mila persone in provincia sono ancora positive al covid si rinvia e ritorno a scuola per le classi superiori alla prima delle elementari e delle medie quasi ovunque gran parte dei sindaci della provincia di salerno del cilento e del valo di diano preferiscono rinviare la maggior parte di questi sposta la decisione al 7 di dicembre confidando che il ponte dell'immacolata ma soprattutto le disposizioni che discenderanno dal decreto del presidente del consiglio giuseppe conte atteso per questa sera darà delle indicazioni più precise sul da farsi vallo della lucania per esempio rinvia il tutto al 7 di dicembre seguita da santa marina nel cui comune il sindaco giovanni fortunato ha prorogato la sospensione dell'attività scolastica in presenza per le elementari e le medie di sicuro fino a lunedì a castelnuovo il primo cittadino eros lamaida ha rotto invece gli indugi e i rinvii di qualche giorno non si ritornerà tra i banchi se non dopo l'epifania e questo riguarderà anche gli alunni della scuola d'infanzia la situazione epidemiologica non consente un rientro in sicurezza per la decisione dunque è stato secco nessun alunno tornerà in classe fino al 22 dicembre giorno in cui per l'appunto scattano le vacanze di natale la maeda ha seguito dunque l'esempio del sindaco di pagani lello di prisco che per primo e quasi un mese fa ha opposto la sua ordinanza a quella di vincenzo de luca che consentiva il ritorno in classe per bambini dagli 0 ai 6 anni dietro test rapido volontario e ultima parola ai sindaci sulla scia di questa disposizione anche se non ancora intervenuti gran parte degli amministratori cilentani vanno i loro provvedimenti scade infatti oggi 3 dicembre in molte realtà come ad agropoli l'ordinanza di interdizione al ritorno in classe per i bambini frequentanti tutte le altre classi delle elementari e nelle medie le disposizione è facile prevedere che saranno tutte rinviate alla post vacanze di natale dopo cento la santa marina e torrorsaglia anche il comune di casella in pittari guidato dal sindaco giampiero ruzzo ha deciso di riaprire nuovamente le porte della scuola primaria e dunque riprendere la didattica in presenza per gli alunni della prima classe delle scuole elementari una decisione adottata dal primo cittadino successivamente rispetto ad altri paesi che già l'indomani dell'ordinanza del presidente de luca che prevedeva la riapertura in parte delle scuole stabilirono il ripristino delle lezioni in presenza motivo del ritardo come spiegato dallo stesso nuzzo è da ricercarsi nel paventato pericolo della presenza di un nuovo focolaio all'interno del comune quest'ultimo però scongiurato fortunatamente qualche giorno fa da qui dunque la volontà del sindaco di riaprire la scuola primaria come segno di speranza necessario per garantire nel migliore dei modi la battaglia contro un nemico invisibile con il quale bisogna imparare anche a conviverci spiega nuzzo adottando ovviamente tutte le dovute precauzioni e dovuti accorgimenti riaprono perché sono state dopo solo 20 giorni dalla loro apertura venuta a fine settembre chiuse ad inizio ottobre dal governatore della regione campana che solo una settimana fa dieci giorni fa con ordinanza ne ha decretato la riapertura il 25 novembre ora io premetto come molti voi di sanno come molti voi sanno che non avrei mai chiuso le scuole ad ottobre e allora qualcuno mi potrebbe dire benissimo allora perché non lei ha riaperto il 25 per chi ha la memoria curta e non tutti abbiamo la stessa memoria faccio presente che io non ho riaperto le scuole il 25 anzi ribadisco non faccio presente ma era intuibile se esistesse un pochino più attenti e prorogando nella chiusura fino al 5 dicembre non l'ho riaperto il 25 dicevo perché una settimana prima c'era stato un positivo a casella e c'era un potenziale focolaio in atto solo due giorni prima lunedì 23 della potenziale apertura lunedì 23 novembre due giorni prima della potenziale apertura abbiamo avuto la certezza che questo focolaio non non era in atto quindi non c'erano era stato scongiurato la insorgenza di questo focolaio covit ora potete immaginare che due giorni dopo uno all'improvviso riapre le scuole questo è il mio modo di vedere e di tutelare la salute dei cittadini ho avuto bisogno di valutare la situazione epidemiologica ancora per una settimana e allora che cosa ho fatto ho approfittato di questa settimana per fare degli incontri con voi genitori ho poi sentito le insegnanti ho sentito la dirigente ho valutato la situazione epidemiologica in base a questa situazione ho revocato la mia ordinanza che era valida fino al 5 dicembre per cui da domani si riaprono le scuole ho ritenuto sempre per lo stesso motivo cioè quello di valutare ancora per qualche giorno la situazione epidemiologica di tenere chiuse le scuole dell'infanzia in attesa della nuova ordinanza regionale che ci sarà il 7 che continuerà a tenere chiuse le altre classi oppure le aprirà per il momento riapriamo la prima classe della scuola primaria quindi un buon rinizio a tutti ai bambini alle insegnanti e anche a voi genitori ai quali raccomando senso di responsabilità ho visto assembramenti la mattina quando portate i vostri figli a scuola mi raccomando di non avere comportamenti che possono essere poi censurati anche da parte mia buon rinizio di anno scolastico a tutti quanti l'attesa è cessata firmato proprio in queste ore dal presidente della repubblica per la sua promulgazione il dpcm conte natale capodanno saranno blindati dentro i confini comunali e dal 21 dicembre al 6 gennaio non sarà possibile spostarsi tra le regioni né raggiungere le seconde case le scuole tutte riprenderanno invece il 7 gennaio anche se si prevede un ritorno in presenza pari al 50 per cento degli studenti delle superiori ma prima che questo avvenga si prospetta un natale davvero singolare per le intervenute disposizioni che disciplinano i ricongiungimenti e gli spostamenti tra regioni che non saranno possibili per tutto il periodo delle festività inoltre sono previste per il capodanno misure ancora più rigide coprifuoco fino alle 7 del mattino e non fino alle 5 come gli altri giorni dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo nonché dalle ore 22 del 31 dicembre fino alle ore 7 del primo gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute non c'è nulla per cui star sereni e questo in sintesi il pensiero di biagio tomasco segretario provinciale della nussind l'epidemia di coronavirus in campania in provincia di salerno in particolare non è stata gestita nel migliore dei modi possibili minimi i passi in avanti rispetto alla prima fase quella che di fatto ha preso di striscio e per fortuna una regione mal organizzata inesistenti i controlli delle forze dell'ordine bassa l'attenzione delle persone rispetto ad un virus che definisce opportunista e che fa morti molte si continua a lavorare in emergenza ad alto rischio e con risorse risicate bene ha fatto l'ospedale di vallo della lucania che ha messo da parte un numero sufficiente di mascherine che in altre realtà scarseggiano ma sempre nell'ospedale di vallo ciò che cominciano ad essere razionalizzate sono le tute che i sanitari devono indossare per assistere i pazienti covid eppure l'ospedale san luca della città non dovrebbe occuparsi dei pazienti covid secondo tomasco essendo vocato a questo quello di agropoli inoltre la mancanza di personale da dedicare alla cura dei pazienti positivi ha portato al paradosso che i medici operanti in altri reparti vadano in supporto a quelli che operano in assistenza a questi innanzitutto vallo non è un ospedale covid questo è fuori di dubbio è perché è la stessa normativa nazionale linee guida ministeriali del 26 marzo del 2020 dicono chiaramente che devono esistere ospedali covid quindi tutti covid e ospedali non covid a vallo c'è un reparto covid che noi abbiamo subito contestato perché non è secondo noi non è una cosa fattibile inserire in un in un ospedale idea di primo livello un reparto covid per tutte le cose che ne conseguono la promiscuità i percorsi e quant'altro però dobbiamo pure dire che tutto quello che di buono doveva essere fatto per la protezione è stato fatto tranne per il personale il problema riguarda soprattutto i medici perché personale infermieristico nel reparto covid di vallo è stanziale cioè è dedicato esclusivamente a quello i medici vengono vengono presi dalle varie branche perché non si riesce con le forze che abbiamo oggi in dotazione a creare un gruppo che debba lavorare unicamente per il covid ecco perché il legislatore diceva o sei covid o non sei covid il ragionamento che è stato fatto a vallo è se arriva un paziente covid al pronto soccorso che facciamo lo mandiamo ad agropoli bene noi siamo fautori dell'ospedale covid di agropoli però è anche vero che agropoli è stato ridimensionato proprio perché non c'era personale che potesse fare attivare tutti i posti letto che si potevano attivare qui deve essere fatto un mea culpa generale da tutta la classe politica agropolese e non perché quando noi a febbraio dicevamo di trasformarlo completamente non un reparto 20 posti tutto l'ospedale con i suoi 80 90 posti doveva diventare covid ci hanno riso in faccia fermo restando che poi ad agosto luglio per la precisione hanno riaperto l'ospedale per il covid e questa è la cosa che non va bene perché i 20 posti letto che agropoli in prima battuta aveva dato che la rianimazione subintensiva sono stati subito saturati da quegli ospedali tipo scafati che si occupavano solo di covid e non avevano più dove mettere i pazienti senza una programmazione senza una linea guida senza un protocollo assolutamente all'impazzata ognuno si alzava e decideva dove andavano i pazienti qualcosa di aberrante ne abbiamo visto tante e ne continueremo a vedere tante sinceramente come il caso della signora con una alla fine questa stava a casa sia ben chiaro sintomatica in quarantena alla fine sono dovuti partire un infermiero un medico dall'ospedale di Vallo per andare a fare il gesto d'agropoli insomma l'ospedale di Vallo della Lucania continuerebbe a fare da spalla quello di agropoli aggravando la propria operatività a quella dell'organico medico e paramedico che si trova pure a lavorare in modo fortemente esposto non riuscendo poi a garantire l'assistenza ordinaria restanti ammalati così come in tutti gli altri ospedali della regione e per volontà dell'unità di crisi necessario dunque un cambio di passo veloce tempestivo ma per le considerazioni di Tomasco la cui intervista integrale proponiamo al termine del tg questo non è possibile e per ragioni squisitamente politiche noi andiamo a lavorare perché ci stanno i pazienti attenzione non lo dobbiamo mai dimenticare qualcuno pensa invece che gli ospedali esistono perché esistono le persone che votano purtroppo il Cilento e il Vallo di Diano ultimo censimento fanno tutte quanti insieme 288 mila persone che più o meno è l'intera popolazione della città della sola città di Salerno quindi il calcolo è presto fatto non abbiamo appeal per avere appeal dobbiamo avere delle persone carismatiche elette che vanno a portare i nostri problemi nelle sedi istituzionali e non dico di prendere tutto in una volta ma almeno un pezzo una volta di mantenerlo però spero di non essere re invitato da voi per parlare della situazione della neurochirurgia di Vallo della Lucania o della situazione della chirurgia vascolare di Vallo della Lucania che sta soffrendo da anni oramai della carenza di medici adesso abbiamo perso anche il primario di neurochirurgia quel reparto va avanti perché ci sono delle persone dentro che stanno facendo il loro lavoro sempre e comunque ma la programmazione dov'è? la programmazione la fanno i vertici un'area di bassa pressione proveniente dall'Europa settentrionale che ha raggiunto il Mediterraneo determinando condizioni di generale maltempo su tutte le regioni centro-settentrionale sulla campania da ieri si sta concentrando con fenomeni di carattere temporalesco nel sud della regione notevoli i danni che si sono potuti stimare in meno di 24 ore da nord a sud della campania soprattutto per le violenti grandinate che anche nella tarda serata di ieri si sono abbattute essenzialmente lungo la fascia costiera l'alerta arancione che il dipartimento di protezione civile aveva prontamente diramato nella serata dell'altro ieri è stato diffuso pure dal comune di camerota che in queste ore ha potuto contare diversi danni allagamenti e problemi al sistema semaforico della frazione lentiscosa palpabile la tensione nei comuni del golfo di policastro che due settimane fa furono messi in ginocchio dalla pioggia milioni di danni causati a tre realtà in particolare vibonati spania e santa marina che con i temporali incessanti di queste ultime 48 ore accompagnati pure da forti raffiche di vento stanno vivendo momenti di rinnovata angoscia l'avviso diramato dalla protezione civile prevede il perdurare dell'allerta arancione in campania a tutta la giornata di oggi in attesa di studiare l'andamento della perturbazione in atto il sistema di prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico suggerisce attenzione alta i fenomeni temporaleschi in atto con episodi di elettricità e forti grandinate possono determinare danni derivanti da smottamenti frane ed allagamenti strade interrotte cumule di fango e detriti fiumi d'acqua che scorrevano impetuosi per le vie dei centri di santa marina espana e vibonati così si presentava il golfo di policastro all'indomani dell'alluvione che lo scorso 17 novembre ha colpito gran parte del territorio causando danni inestimabili per l'intera popolazione una tempesta d'acqua senza precedenti che per diversi giorni ha messo in ginocchio i comuni maggiormente colpiti dall'alluvione che però fin da subito sono stati supportati dalla macchina dei soccorsi e degli aiuti che nelle ore successive alla tempesta d'acqua si è messa subito in moto diversi infatti sono stati gli amministratori dei comuni limitrofi i volontari della protezione civili presenti sul territorio e i semplici cittadini che si sono immediatamente uniti alle popolazioni colpite dal nubifraggio per dare il loro sostegno tra questi un aiuto importante è arrivato anche dai volontari della croce rossa italiana al comitato di sapri motivo per il quale il sindaco del comune di spania ha deciso ieri di ringraziare personalmente nella persona del presidente saggese con una visita inaspettata presso la sede presente nella città della spigolatrice un ringraziamento dunque rivolto all'ottimo operato svolto nei giorni scorsi da tutti i volontari credo che i cittadini abbiano potuto rendersi conto in questi mesi ha dichiarato il sindaco giudice che cosa significhi la vostra presenza costante infaticabile di grande umanità e vicinanza a chi soffre oggi siamo tutti più consapevoli di quanto valga il vostro esempio nel dare sempre il massimo senza risparmiarsi e senza arretrare di fronte al rischio di contagi che voi stessi correte ogni giorno infine ha dichiarato giudice un ringraziamento va a tutti i volontari per essere stati presenti in occasione dell'alluvione che ha colpito il nostro comune il golfo di policastro sarà l'insegna della sovietà e della solidarietà il natale agropolise è stato chiaro il sindaco adamo coppola l'emergenza sanitaria da covid 19 in atto non consente di vivere al meglio quella che è la festa più amata e attesa dell'anno specie da parte dei bambini per queste ragioni la decisione dell'amministrazione comunale va verso una celebrazione delle festività sobria ma solidale ci saranno luminarie in formato molto ridotto rispetto agli anni scorsi sarà illuminata piazza vittorio veneto le rotatorie le chiese la casa comunale il castello si tratterà per lo più di illuminazione a terra e non aerea oltre che soffacciata per quanto riguarda gli edifici presso il castello angioino aragonese nella piazza d'armi sarà sistemato un grande presepe realizzato da artisti locali mentre la sala dei francesi diventerà la dimora di babbo natale in attesa di conoscere il nuovo dpcm per ora l'incontro di santa claus con i bambini potrà avvenire solo in maniera virtuale qualora poi il decreto lo consentisse sarà adottato a una modalità di ingresso e loco tramite un sistema di prenotazione ma quello del 2020 sarà soprattutto il natale della solidarietà su iniziativa del sindaco adamo coppola condivisa dall'intera amministrazione comunale con i fondi risparmiati dalla mancata messa in campo di tutte le iniziative natalizie degli scorsi anni saranno acquistati pacchi alimentari da destimare alle famiglie bisognose il natale ha affermato il sindaco adamo coppola è un momento magico da vivere con gli affetti più cari ma purtroppo quest'anno diversamente dai precedenti causa covid 19 non lo potremmo vivere come vorremmo in questo momento già buio non potevamo non accendere una luce di speranza un simbolo del natale e quindi allestiremo in maniera sobria le luminarie solo in alcune aree simbolo della città confidando che si esca presto da questo brutto periodo e si torni presto alla normalità quest'anno non faremo iniziative particolari con i soldi risparmiati regaleremo un sorriso alle famiglie in difficoltà donando loro un pacco alimentare con all'interno tutto l'occorrente per preparare un dignitoso pranzo di natale non potendoci abbracciare in questo modo seppur leontani ci sentiremo vicini giornata internazionale delle persone con disabilità ricorre oggi 3 dicembre il parco archeologico di pestum e velia ha accolto l'occasione per ricordare un progetto in corso grazie al quale si rinnova l'impegno della direzione nel garantire l'accessibilità e l'inclusione alle iniziative dei due siti alle persone meno fortunate l'iniziativa a scuola nel museo e dal museo lanciata proprio nei giorni scorsi è realizzata in collaborazione con cilento for all il tulipano nel prevedere che tutte le scuole d'italia possano visitare gratuitamente il museo di pestum da remoto grazie all'uso delle moderne tecnologie informatiche proprio per la caratteristica della virtualità delle visite consente anche ai ragazzi disabili di partecipare nessuna barriera architettonica per loro ma pari diritti ed opportunità e grazie anche alla didattica distanza che in certe occasioni può rappresentare un momento in cui si possono rafforzare relazioni ed emozioni lo slogan ufficiale della giornata della disabilità pensato per accogliere durante il corso delle ore virtualmente tre classi di altrettanti istituti di salerno napoli e como è un giorno all'anno tutto l'anno nel corso degli anni della direzione zucdregel diversi sono stati progetti messi in campo dal parco dedicati a persone con disabilità dalla realizzazione del percorso accessibile nel santuario meridionale con la passerella per entrare nel tempio più antico di pesto la cosiddetta basilica alle visite per bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico nominate un tuffo nel blu sempre in collaborazione con celento forone il tulipano e con il coinvolgimento del dipartimento di scienze mediche traslazionali dell'università federico secondo di napoli con quello di scienze motorie del benessere dell'università partenope le visite sono per tutti e per ciascuno ha commentato il direttore perché abbattono le barriere fisiche e cognitive la metodologia didattica utilizzata parla ai diversi stili di apprendimento e alle diverse intelligenze e permette una visita realmente inclusiva il museo è un luogo in cui si impara sempre anche quando i bambini diventano grandi ovvero cittadini consapevoli della bellezza e va sempre tutelata e custodita per essere accessibile anche ai bambini di domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti